Ben trovati, ben trovati a un nuovo video firmato fabioambrosi.it, questa è la seconda clip dedicata alle vostre domande a cui io cercherò di dare una risposta. Nelle tante playlist presenti in questo canale YouTube abbiamo affrontato tanti argomenti, abbiamo parlato di After Effects, di Premiere, di Audition, un pochettino anche di Photoshop e alla fine di ogni lezione, alla fine di ogni video tutorial qualcuno tra di voi ha sentito la necessità di fare delle domande, di chiedere qualche approfondimento, qualcosa che non riesce a fare. Altri sono venuti sulla pagina Facebook, direttamente Fabio Ambrosi, hanno messo il like e poi hanno inviato un messaggino chiedendo aiuto per qualche motivo. Altri invece sono venuti su fabioambrosi.it, lì hanno compilato il form e inviato la propria domanda. A molti di voi sono riuscito a rispondere in questi mesi, ad altri purtroppo non ho fatto a tempo, altri ancora mi sono ripromesso di rispondere, poi il tempo tirano per tutti e nulla. Quindi ho deciso di fare questi video tutorial, che poi non sono tutorial, sono delle semplici clip, in cui cercherò di rispondere alle domande che voi settimanalmente mi fate a commento di questi video oppure sulle altre piattaforme, appunto Facebook o il mio sito internet. Ieri abbiamo iniziato con la prima clip di domande e risposte e questa è la seconda puntata. Quindi senza perdere troppo tempo, a differenza di ieri dove ho chiacchierato tanto e ho risposto poco, oggi cerco di essere un po' più sintetico nelle risposte e cercherò di rispondere al maggior numero possibile di domande che mi avete fatto. Iniziamo da un po' di quesiti che sono arrivati qui su YouTube e iniziamo da Emilio, che non circa nove ore fa, quindi questa è una domanda fresca fresca, mi ha scritto Ciao Fabio, una domanda secca, monto solamente riprese che effetto io nella mia vita quotidiana, ossia io ho sempre la mia videocamera con me per documentare le passeggiate e le gite che faccio. Poi le monto per tema e sono riprese fatte nel corso dei mesi e anche di anni, ok? Vedendole direttamente con la videocamera e sul televisore, all'occorrenza posso visualizzare la data e l'orario di ripresa usando il telecomando della videocamera, corretto. Vorrei riuscire a farle anche durante il montaggio, affinché al cambiamento della scena possa far comparire brevemente i dati della ripresa. Senza inserire dei testi, ma utilizzando i metadati delle riprese. Come posso fare? Caro amico Emilio, tu quello che vorresti fare sostanzialmente è sfruttare i metadati di una clip per poter stampare a schermo informazioni come la data, l'orario e cose del genere, come sei solito fare con il tuo telecomando. Ho cercato un pochettino di informarmi, non con troppa attenzione, devo essere onesto, ma ho cercato di ricordare un po' di informazioni che avevo sul discorso metadati, di cui tra l'altro abbiamo parlato qualche mese fa in un video tutorial live il lunedì sera. E devo darti una brutta notizia, purtroppo quello che tu vuoi fare, che io sappia con Premiere, solo con Premiere e senza utilizzare plugin di terze parti o cose del genere, non è possibile. Io qui mi trovo in Premiere, questa è una clip che io ho messo nella mia timeline, la rintraccio nel progetto, eccola qui, e come ricorderete quando abbiamo parlato di come poter lavorare con i metadati in Premiere Pro, c'è la possibilità di vedere tutte le informazioni associate a questa clip, andando a cercare la tab metadati, questi sono i marcatori, vediamo se li ritrovo rapidamente, e cercare appunto la data che possiamo prendere come riferimento e stamparla poi a video. In realtà noi possiamo inserire degli overlay qui nel monitor programma, andando tra le impostazioni, in basso c'è la scritta sovraimpressioni, impressioni, sovrapposizioni, perdonatemi, sotto ci sono le impostazioni per le sovrapposizioni, io le chiamerei sovraimpressioni perché quello in realtà sono, e come potete vedere possiamo decidere di mettere in overlay sul nostro monitor programma diverse informazioni delle clip con cui stiamo lavorando, e anche dare un diverso layout a queste informazioni, questi dati però servono a noi quando montiamo più che al montaggio in sé, quindi io purtroppo caro amico devo dirti che da quello che so io non esiste una funzione in Premiere che ti permetta di stampare i metadati a tuo piacimento e poi fare un rendering del genere, molto probabilmente, molto probabilmente è possibile fare qualcosa del genere con After Effects, ora sapete bene che After Effects oltre alle funzioni presenti di default ha la possibilità di utilizzare gli script, ok, o script o espressioni, che sono due cose leggermente differenti ma al principio è sempre quello, After Effects sfrutta tecnologia JavaScript, JavaScript usa appunto questo linguaggio di programmazione per poter espandere le sue possibilità, immagino che con After Effects sia possibile creare uno script che recuperi queste informazioni dai metadati e poi stampi a schermo e ti permetta di fare quello che vuoi, è una cosa un po' macchinosa in realtà, se non hai tantissime clip il mio consiglio è farti un preset grafico e utilizza quello modificando semplicemente la data, ci vuole poco in realtà, se devi fare qualcosa di molto complesso dovrai utilizzare, ahimè, temo, qualche linguaggio di programmazione in After Effects come JavaScript per espandere queste possibilità, a meno che non esistano dei plugin che lo facciano, ma sinceramente non credo, dobbiamo informarci di tutti quanti, se qualcuno ha la risposta a questa domanda, qua, commenti, siamo tutti più ricchi di informazioni, questo era Emilio che ci ha scritto, andiamo avanti, c'è un'altra domanda da parte di Rocco, Rocco che sempre quest'oggi ha scritto, ciao grazie per questi tutorial, prego, molta qualità, esagerato, cerco di fare quello che posso, una domanda, ah questa è una domanda interessante, se lavoro a 30 fotogrammi per secondo e poi esporto a 25 fotogrammi per secondo, tecnicamente cosa succede? Conviene farlo oppure no? Grazie, questa è la domanda di Rocco, che tra l'altro è una domanda molto interessante, che mi viene fatta spesso, questi maledetti fotogrammi confondono un po', la velocità dei fotogrammi per secondo confonde un po' tutti, allora io durante il corso di Premiere Pro e anche in realtà quando parliamo di After Effects, durante i vari tutorial e live che abbiamo fatto, ho sempre consigliato di lavorare con una velocità di fotogrammi per secondo di 25 fotogrammi al secondo, questo perché? Perché principalmente in Italia è uno standard, in Italia e non solo, tutti coloro, tutti quei paesi che utilizzavano lo standard PAL fino a qualche anno fa, ancora è così, molte televisioni in Italia, anzi tutte le televisioni lavorano a 25 fotogrammi per secondo, poi è arrivato il web, il web è un po' azzerato, non solo le distanze tra i singoli paesi, ma anche un po' le convenzioni, i cellulari che noi utilizziamo quotidianamente girano a 30 fotogrammi al secondo, a 60 fotogrammi al secondo, raramente troviamo, a me non è mai capitato di trovare cellulari che lavorino direttamente a 25 fotogrammi al secondo, quindi la domanda che si fa Rocco è, io giro, lavoro, faccio tutto, 30 fotogrammi al secondo, poi esporto a 25 fotogrammi al secondo con Premiere, cosa succede? Beh in realtà se non ricordo male, ma non vorrei darti un'informazione sbagliata, perché comunque sì, la mia esperienza è questa, ma potrei essere smentito, Premiere quando esporti fa una conversione, quindi se tu hai lavorato a 30 fotogrammi al secondo, Premiere automaticamente converte tutto a 25 fotogrammi al secondo e non dovresti avere problemi, in teoria, in pratica per progetti importanti, per importanti intendo documentari, programmi per la televisione, per Netflix, per Amazon Prime, importanti insomma, il workflow da seguire chiaramente parte dalla preproduzione, dalla produzione quando giri con la camera, decidere uno standard e seguire quello, e la cosa importante in questi casi è che quando arrivi al montaggio tu abbia il materiale conforme, vuol dire che quando lavori con Premiere non hai 10.000 formati differenti, 10.000 framerate, 10.000 risoluzioni, mai un unico framerate, un'unica risoluzione, e hai tutti i file più o meno con lo stesso codec, ok? È sbagliato, comunque non è conveniente montare qualcosa prendendo un H.264, H.265, ah questo è un ProRes, mettere tutto insieme, non perché non si possa fare, si può fare, però Premiere fatica un po' di più, ok? E poi potresti avere problemi in un secondo momento, in fase di esportazione, diciamo che la regola vuole che tu quando monti conformi, ok? Tutto in un unico formato, che poi è quello che fa Avid, Avid altro software meraviglioso, di cui magari parleremo in futuro, eh? Se riesco a tirare dentro magari persone che conosco e che lo sanno usare molto bene, anzi, non è escluso che un giorno riuscirò a portare qui su questo cadale la testimonianza di uno che Avid lo conosce benissimo, ma ne parleremo più avanti. Dicevo, il motivo per cui quando si lavora con Avid, Avid, a differenza di Premiere, di default, quando importa il materiale, lo converte in un suo formato preciso, in maniera tale da poter lavorare con tutti i video che abbiano le stesse caratteristiche. Quindi, risposta semplice, cosa succede quando lavori a 30 fotogrammi al secondo e poi esporti a 25? Premiere fa una conversione. Io sconsiglio, consiglio di lavorare sempre ad un framerate per evitare problemi spiacevoli come può essere il fuori sync, ok? Però, diciamo, fino ad oggi non ho visto drammi in questo senso. Andiamo avanti, altra domanda. Carlo, Carlo Romano chiede, si è iscritto al mio canale da un anno, beh, comincia a essere tra lo zoccolo duro di questo canale, e quindi ti ringrazio, e dice, salve Fabio, vorrei sapere se è possibile, pagando ovviamente, avere i tuoi corsi su DVD perché è una connessione non molto veloce e sarebbe meno dispersivo averlo disponibile tutto insieme. Congratulazioni, bla bla bla. Caro Carlo, tutti questi tutorial su un DVD, magari lo faremo in futuro, non lo so, in questo momento è un lavorone che non ho tempo e modo di fare, quindi mi dispiace tantissimo. quello che posso consigliarti di fare, magari tirati giù questi video di YouTube con calma, uno per uno e ti li vedi offline, ecco. Non dovrei dirlo perché Google non vuole questa cosa, però, se hai una connessione lenta, l'unico modo che ho, consiglio che ho da darti è prova a tirarli giù uno per uno, mettili da parte, ok? Per il momento non ci sono DVD. Andiamo avanti, ancora qualcun altro, Damose da Fa, che bellissimi, i vostri nomi sono fantastici. Damose da Fa fa una domanda molto interessante, rispondendo a un video che abbiamo fatto ieri, al video che abbiamo fatto ieri, quindi andato a recuperare per capire di cosa stiamo parlando, e chiede se abbasso solo picchi dopo averli evidenziati e isolati, trattando col compressolo solo i picchi e poi procedere nella normalizzazione. Ho capito quello che mi stai chiedendo, cerco di capire anche agli amici che sono collegati in questo momento. Ora non ho aperto con me Audition e temo che non funzioni se lo apro, perché sto registrando e non l'avevo programmato, però nel video domande e risposte di ieri, quindi il numero uno, abbiamo parlato della differenza tra compressore audio e normalizzazione, e ho detto come normalizzare un file audio quando ci sono dei picchi molto alti, non è conveniente perché la normalizzazione alza il picco fino al livello desiderato e poi alza tutto il resto dello stesso volume, quindi se hai un audio molto basso e dei picchi molto alti, e porti tutto a meno uno, ipotizziamo, non risolvi il problema di avere tutta la traccia audio allo stesso livello. Quindi ho detto ieri utilizzate il compressore perché fa un lavoro migliore in queste situazioni. Il nostro amico D'Amosetafa dice se io isolo soltanto i picchi, li abbasso, li abbasso e poi normalizzo tutto, si può fare, si può fare, si può fare, ma tu immagina di avere un audio di due ore e mezza, vai a cercare tutti i picchi, vai. Ti dico perché io anni fa, 10-15 anni fa dovevo montare delle conferenze, ok? Conferenze che duravano ore, non 20 minuti, ma 2-3-4 ore, e vai in un video di 4 ore a cercare tutti i picchi e abbassarli uno per uno. Si può fare, per carità, si può fare, ma perché complicarci la vita? Domanda e risposta. Poi, come ho detto ieri, non esiste una tecnica che vince sulle altre, se uno si trova meglio a lavorare in un modo può farlo, cerchiamo ovviamente di essere anche pratici nel fare le cose. Oh, altra domanda, altra domanda, ne abbiamo tante, oggi cercherò di portarmi avanti rispondendo a molti di voi, perché sono colpevolmente in ritardo di non avervi risposto per mesi, praticamente. Oh, un nostro amico, Simone, Simone scrive, parlando di Adobe Media Encoder, dice, ciao, ma si acquista parte o è tipo incluso con Premiere Pro e After Effects? Appunto, parlando di Adobe Media Encoder. Caro Simone, Adobe Media Encoder viene installato automaticamente quando installi Premiere. Premiere e After Effects non possono lavorare senza il Media Encoder, perché il Media Encoder è quel software del pacchetto Adobe che è il cuore delle compressioni, ok? È il cuore, mettiamola così, è fondamentale, quindi quando installi Premiere, quando installi After Effects, di norma dovresti avere anche Adobe Media Encoder, quindi se acquisti la licenza di Premiere Pro da un mese, quella che mi sembra costi 29,90€, ma potrei sbagliare, tra l'altro ci sono degli sconti in questo periodo sul sito dell'Adobe, andate a vedere perché credo ci sia il 20% di sconto, dicevo, se installi Adobe Premiere Pro o After Effects scaricandolo dal sito dell'Adobe appunto sotto abbonamento verrà automaticamente installato anche il Media Encoder. Poi, ancora, parliamo, rispondiamo alla domanda di Marco Bella che chiede perché qualsiasi immagini che importo su Photoshop si sgrana completamente? Sicuramente è questione di formato e con quale devo salvarle? Complicata come risposta. Allora, il nostro amico si domanda quando importa delle immagini in Photoshop al problema che queste vengano sgranate completamente. Allora, il problema delle immagini sgranate spesso nasce dal fatto che noi utilizziamo delle immagini inadatte per il tipo di lavoro a cui stiamo lavorando. Ok? Se dovete lavorare un'immagine in HD dovete procurarvi del materiale HD con cui lavorare. Se state lavorando in 4K dovete procurarvi delle immagini che abbiano una risoluzione sufficiente per lavorare in 4K. Il nostro amico si pone il giusto quesito. Sia io importo un'immagine in Photoshop ho il problema che le immagini vengano sgranate. Come devo fare per risolvere? Io ora mentre sto riassumendo questa domanda sto anche aprendo Photoshop così da provare a simulare la domanda che è stata fatta dal nostro amico. La risposta intanto da dare subito è procurati delle immagini di buona qualità. Non si scampa da questa cosa. E occhio ai DPI alla risoluzione. Quando lavoriamo con i video di norma lavoriamo ad una risoluzione di 72 DPI. Quando ovviamente lavoriamo per la stampa quindi per stampare manifesti o cose così tema, ve lo dico subito, in cui io non sono esperto quindi non chiedetemi queste cose perché non le so parlo della stampa ovviamente però quando lavorate con formati che devono andare sulla stampa 72 DPI non vanno bene bisogna salire un pochettino. In questi casi ovviamente non conta solo la risoluzione dell'immagine ma anche la sua densità di pixel quindi i DPI. È un argomento complesso di cui io non sono molto esperto quindi rischierei di dire cose sbagliate però ecco, intanto quando lavorate con Photoshop occhio ai DPI, ok? Chiaramente procuratevi sempre delle immagini di ottima qualità ottima qualità perché altrimenti rischiate di avere di avere problemi quando lavorate chiaramente si sgranano. Oh, sono riuscito intanto, eh? Sto andando a recuperare un'immagine di esempio vediamo ok, ci siamo vediamo se riusciamo a risolvere il quesito del nostro amico mi trovo in Photoshop e vado ad importare un'immagine in questo caso è una fotografia che io scattai per la copertina di un di un brano musicale che uscirà il prossimo 5 gennaio si chiama Veli di Cartone lo dico, lo troverete su Spotify quindi se avete voglia venite su Spotify e mettete un like anche al mio account Spotify o like in realtà seguitemi su Spotify se vi fa comunque ho scattato una fotografia con il mio cellulare e poi ho deciso di lavorarla con Photoshop è chiaro che se io ho un'immagine 1920x1080 e importo una fotografia la fotografia di norma e di base chiaramente viene importata correttamente questa è una fotografia che avevo scattato con il cellulare mi sembra di una risoluzione corretta e quindi quando importo la fotografia la fotografia ha le dimensioni le dimensioni giuste però però tra le impostazioni di Photoshop vediamo se le ritrovo al volo questa non me lo ero ammetto di non essermi preparato questa risposta quindi sto in qualche modo indagando insieme a voi quasi come se fossimo in diretta tra le impostazioni generali di Photoshop c'è una voce che dice ridimensiona ridimensiona immagini durante l'inserimento che cosa fa questa funzione? questa funzione automaticamente fa sì che le immagini che voi importate vengano ridimensionate basandosi sulla qualità sulla specifica dell'area di lavoro con cui state lavorando quindi io se adesso vado a reimportare l'immagine vediamo cosa succede vedete questa era l'immagine originale scattata con il mio cellulare che ovviamente ha una risoluzione molto più elevata di 1920x1080 ok? però io avendo disattivato la funzione di ridimensionamento automatico in preferenze generali in Photoshop eccola qua avendo deselezionato questa funzione adesso ho la possibilità di importare le immagini alla loro risoluzione originale non so se sono stato chiaro con questa spiegazione e non so nemmeno se ho risposto correttamente a quella che era la domanda del nostro amico però è importante sapere queste cose allora rapidamente andiamo avanti altrimenti qui facciamo un video di 10 ore e molti di voi poi mi accusano che parlo troppo eh ragazzi quello so fare eh se ero bravo a cucinare cucinavo se ero bravo a stirare stiravo stirare no lavare ancora ancora stirare no vabbè andiamo avanti ma non perdiamoci in chiacchiere oh finalmente un nickname simpaticissimo Dragon Blind o Dragon Blin morente ah molto poetico molto bucolico non lo so perché un'immagine bucolica decadente mi è entrata in testa comunque come mai non si fa non mi fa cliccare modifica in Adobe Audition ahhh questa è una bella domanda a cui darò una risposta velocissima non vi preoccupate il nostro amico si domanda per quale motivo riferendosi a un video tutorial fatto su Adobe Premiere Pro si chiede come mai quando in Premiere Pro eh che bella timeline anomalie in Italia occulta cercate anomalie in Italia occulta prima o poi vedrete questa serie spero presto spero non so ancora dare una risposta dicevo il nostro amico si chiede per quale motivo cliccando su una clip in Adobe Premiere Pro non ha la possibilità di cliccare sulla voce per modificare in Adobe Audition eh probabilmente non hai Audition installato quindi questa è la prima risposta che vi viene da darti se non riesci a eh aprire una clip da Premiere in Audition probabilmente non hai Audition la seconda possibilità è che tu non abbia la versione originale di Premiere e di Audition in questo caso i due software ci sono ma non comunicano tra di loro la terza possibilità è che i due software siano ehm vecchi come 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 modello sì come versione quindi non abbia la possibilità di comunicare l'ultima possibilità è che tu sei cercato di far lavorare in Audition un video e non un audio in quel caso non avrai mai la possibilità di importare in Audition un file un file audio quindi queste sono le motivazioni per cui tu da Premiere non riesci probabilmente ad aprire un filmato in un filmato una clip audio video in Adobe Audition diversamente dovresti riuscire senza particolari problemi andiamo ancora avanti oh abbiamo finito con le domande raccolte su YouTube in realtà mi ero segnato anche una valanga di domande provenienti da Facebook perché veramente sono molto contento delle vostre delle vostre domande perché vuol dire che vi interessa ciò di cui parliamo e siete anche molto attenti e molto curiosi quindi io vi ringrazio intanto mi scuso se non riesco a rispondere a tutti lo dico abbiate pazienza risponderò adesso a qualcuno di voi che ha scritto su Facebook da ottobre in poi vediamo un po' ah questa è interessante come domanda cercherò adesso di selezionare un po' le domande che magari possono servire a tutti quanti e non troppo specifiche domanda sulla scheda video un utente che avendomi scritto in privato in realtà e non pubblicamente non citerò è giusto anche che la privacy per quanto privacy su queste cose non credo quanto conti però è giusto anche tutelarla questo amico scrive un ragazzo di Napoli possiamo dare questa informazione da pochissimo sta utilizzando After Effects oggi ho la lingua complicato parlare oggi appena apro Facebook il programma mi dà problemi con i driver già questa cosa non va fatta o lavori su After Effects o tiene aperto Google Chrome per esempio vabbè andiamo avanti è delicata la cosa può sembrare stupida ma Google Chrome prende molte risorse quindi quando lavorate con la grafica soprattutto chiudete tutto ok allora dicevo si impalla After Effects quando lavora ando apre Facebook lui ha una scheda grafica Nvidia GTX 275 dice che i driver della scheda non vanno bene i driver non esistono potreste aiutarmi a capire come posso risolvere la cosa grazie allora caro amico intanto come dicevo quando lavori con grafica e Premiere se non è una scheda video buona chiudi tutto ok poi tu hai un Nvidia GTX 275 è una scheda vecchiotta faticherai tanto a lavorare quindi l'unica soluzione che vedo per te o provi a lavorare a risoluzioni più basse tipo 1280x720 o inferiori o cambi scheda grafica ok per esercitarvi non serve fare video in 4k per esercitarvi soprattutto con After Effects fate composizioni piccole non serve fare cose gigantesche tanto non le potreste usare e fareste una fatica inutile andiamo avanti altra domanda dovevo selezionarmele prima mannaggia a me perché adesso perdiamo un po' di tempo a leggerle ok questo è interessante questo utente mi chiede ciao Fabio seguo alcuni dei tuoi corsi di Premiere però è molto utile che andiamo avanti ma ora ho un problema che non riesco a risolvere praticamente in fase di export video ho problemi con Creative Cloud ma non esiste un altro modo per esportare il video senza passare da quel Pro caro amico ti chiami Leonardo questo lo posso dire caro Leonardo assolutamente sì quando esportate con Premiere Pro non devi per forza utilizzare Creative Cloud anzi io personalmente non ho mai utilizzato Creative Cloud ti spiego qui mi trovo anzi utilizziamo una temer più c'è tipo questa via ctrl M come abbiamo detto tante volte e apriamo le impostazioni l'ho detto nel corso di montaggio di Premiere Pro in realtà ma lo ripeto molto volentieri perché sono funzioni che non si conoscono molte in fondo l'ultimo tab questo qui ingrandisco un pochettino per permettere a tutti di vedere eccolo qua questo tab ci dà la possibilità di pubblicare ciò che noi facciamo con ciò che noi esportiamo con Premiere Pro di default è tutto spento quindi se tu non vuoi esportare il tuo girato per esempio su Adobe Creative Cloud basta che spegni e il problema l'hai risolto ok esporti direttamente sul tuo disco però se tu vuoi esportare il tuo video e caricarlo contestualmente su YouTube su Twitter o attenzione su un FTP puoi farlo se scendi in basso noterai che hai la possibilità per esempio oltre a pubblicare su Facebook interessantissimo hai la possibilità di utilizzare un account FTP quindi tu inserisci il nome utente la password il server la porta che normalmente è 21 ma può cambiare il percorso ovviamente della cartella remota quanti tentativi fare e se eliminare il file locale dopo il trasferimento quando avrai terminato di esportare da Premiere Pro ovviamente avrai la possibilità di caricare automaticamente sull'FTP quindi la risposta alla tua domanda è sì non devi utilizzare per forza lo storage di Creative Cloud puoi utilizzare quello che vuoi in questo caso potresti utilizzare per esempio un account FTP andiamo ancora avanti magari vediamo di rispondere a domande che possono servire a tutti quanti e non solo ad alcuni molti di voi sono stati intimoriti da Facebook perché io quando scrivete su Facebook dico subito che non riesco a rispondere a tutti e che quindi non posso rispondere a problematiche private perché molti mi chiedono aiuto per cose veramente molto private a livello di montaggio ovviamente e non posso seguire tutti quanti quindi molti quando leggo il mio messaggio desistono altri invece giustamente se ne fregano e vanno avanti con la domanda e quindi siamo qui adesso apposta per rispondere a tutti a domanda molto veloce Cristina ciao Cristina domanda se faremo un corso su Photoshop si ci sono tante cose che vuole fare Cristina in realtà ho dei progetti molto belli che non riguardano solo il montaggio in realtà perché questo è un canale che è nato per parlare di montaggio video di premiere after e questa cosa e così ma sto valutando anche di fare altre cose su questo canale quindi tra queste altre cose potrebbe esserci sicuramente un corso su Photoshop così come potrebbe esserci anche una trasmissione web dedicata ad argomenti che non c'entrano nulla col montaggio per esempio dipende molto da voi dipende dal supporto che mi date e non sto parlando ovviamente di supporto economico parlo di supporto numerico ecco più siete su questo canale più passate parole con i vostri amici più il numero diventa vicino a quello di una massa critica più possiamo fare cose tra cui anche il corso su Photoshop perché no perché no perché no ecco un altro che si è spaventato dalla mia risposta su Facebook vediamo un po' quest'altro tante cosa chiede ah questa è una domandona lunga ah questa è un'altra domanda bella che spesso mi viene fatta ma tanto spesso quindi rispondo al nostro amico Saverio per poi rispondere a tutti quanti vabbè Saverio in sintesi senza che leggo tutto vuole sapere come fare un DVD ok qual è il punto il punto è che purtroppo per certi aspetti comprensibilmente per altri circa nel 2015 Adobe ha dismesso un software che molti utilizzavano chiamato Adobe Encore Adobe Encore cercatelo se non sapete di cosa sto parlando ma non è più disponibile ve lo dico salvo che per vie traverse era un software per fare il DVD barra Blu-ray editing cioè era un software per stampare il vostro video sul DVD e fare quella cosa carina con i menu che si muovono selezioni della lingua no e Adobe nel 2015 ha dismesso questo software non lo fa più non lo pubblica più è rimasto disponibile per un po' non so nemmeno ancora se è disponibile credo di sì tra le vecchie versioni dei software di Adobe perché perché non lo fa più perché non si usano più i DVD cioè questa notizia o perlomeno non si usano più non è vero molti ancora utilizzano i DVD non è vero quello che ho detto però tendenzialmente il DVD come mezzo per stampare video ma anche musica se ci pensate purtroppo per certi versi sta diventando obsoleto non si usa più stampare il video su DVD e dare il DVD è più facile fare un video spedirlo via mail caricarlo su Facebook su YouTube farlo vedere così alle persone quindi per questo motivo Adobe ha dismesso questo software il nostro amico però mi chiedeva se esistono dei software simili per fare video DVD editing o Blu-ray editing non lo so la risposta è molto veloce non lo so prova a cercare su Google 3D, VD, VD, Editing 3D, VD, Editing dovrebbe andare bene come chiave di ricerca e vedi cosa esce fuori non credo che troverai tantissimo in realtà c'era qualche software i nomi mi sfuggono però se qualcuno tra chi segue questo video ha una risposta qua commentate date una risposta a chi cerca la possibilità di fare DVD editing nel 2020 ed è giusto perché io mi rendo conto che molte persone non tutti hanno hanno internet non tutti hanno internet veloce non tutti riescono a far vedere i propri lavori magari ai parenti più anziani o meno anziani che comunque non hanno possibilità di utilizzare internet e quindi la domanda è più che legittima c'è un altro amico che ci dice che voleva lanciare un canale YouTube e voleva sapere se potevo fare dei tutorial riguardo a come esportare e salvare dei mini video di una schermata finale di YouTube come preset di grafica essenziale si può? no le schermate finale di YouTube non sono esportabili però potresti come esercizio farlo tu con un template con After Effects ti fai un template di grafica finale lo salvi come template lo utilizzi chiaramente non ha nulla a che vedere con YouTube qualcosa che tu vai a ricaricare però si può fare in questo senso scaricare i template di YouTube non credo sia possibile sinceramente vediamo Stefano oh beh Stefano chiede informazioni di Fly Simulator non ne parliamo stasera di Fly Simulator ancora ciao Fabio siamo vicini alla fine lo dico per chi dice quanto manca ancora poco tra poco tra poco dirò anche come contattarmi per fare altre domande così che magari centralizziamo un po' l'invio delle domande e non debba andare io a cercarvi le domande sui vari sui vari canali insomma ok complimenti ovviamente li sto bypassando tutti quanti uno per uno vediamo c'era ancora qualcosina che vuole ah ecco un'altra cosa importante molti mi domandano hai parlato di questa funzione ma non la trovo utilizzo Adobe CS6 posso fare qualcosa? no aggiorna aggiorna la CS6 è vecchia ma tanto vecchia c'era la CS6 poi c'era la CC la CC 2015 la CC 2016 la CC 2017 la CC 2018 e poi Premiere 2019 e 2020 e sta arrivando alla 21 cioè la CS6 via butta butta non va bene questa cosa ah altri invece e questa è l'ultima domanda a cui rispondo mi perdoneranno gli altri la domanda con cui chiudiamo questo video è molto interessante perché è una domanda fatta da Sergio e chiede sono partito da un video mp4 alla 700 MB e provando a impostare con ctrl M la timeline ottengo comunque dei filmati molto più grossi oltre 2 GB tranne che scegliendo mpeg 4 da pochi MB ma molto scarso non so cosa sbaglio grazie mille allora caro Sergio e cari tutti quanti perché questo in realtà è un'altra delle domande che mi viene fatta ciclicamente no? molti mi dicono no ma io sto lavorando un file che di default pesava 700 MB lo esporto pesa 3 GB perché? eh amici perché? allora se recuperate il corso di Premiere Pro verso la fine della playlist abbiamo dedicato un paio di lezioni a parlare dei codec degli encoder dei decoder che poi il codec non è altro qualcosa che codifica e decodifica un segnale dei contenitori e delle varie impostazioni per l'export lì diamo maggiori informazioni su questo tema detto in parole povere eh se tu eh importi in Premiere un file da 700 MB ok? che magari ha una compressione da 3 MB al secondo vuol dire che ogni secondo quel video utilizza 3 MB per encodare le informazioni non è esattamente così perché poi esistono i bitrate variabili che sono un'altra cosa ma semplifichiamo ok? ipotizziamo che tu hai un video di 3 MB per secondo eh megabit scusate per secondo che dura 10 secondi ok? quel video peserà 30 MB 3 MB per secondo per 10 secondi 30 MB se chiaramente tu lo stesso video lo esporti a 100 MB al secondo quel video sempre di 10 secondi non ti peserà più 30 MB te ne peserà 300 MB attenzione non è che avete guadagnato qualità così eh l'informazione se non c'è non la potete creare quindi dimenticate questa favola per cui ah prendo un video che fa schifo lo butto dentro esporto a cannone si vede in 4K no no se l'informazione non c'è non la potete creare voi Premiere può provarci per alcune cose ma di default se l'informazione non c'è non potete crearla quindi perché cosa sbagli probabilmente nulla ok probabilmente il video che hai preso da 700 MB era di una qualità molto scarsa e tu lavorando ad una qualità media che magari per YouTube può essere 4 MB al secondo hai semplicemente migliorato almeno teoricamente le caratteristiche di quel tipo di video ok è chiaro che se tu devi spedire un video e non ti entra per esempio su WeTransfer diminuisci la qualità ma non hai sbagliato nulla e tutto dipende dal video originale che magari faceva veramente schifo perdonatemi la parola e tu quando vai a esportare magari lo esporti a una qualità normale però comunque ti pesa di più ok è normalissima questa cosa oh mi fermo mi fermo altrimenti qui andiamo avanti tutta la sera questo è un video on domain tra l'altro non è una live questa avremmo potuto fare una live molti mi domandano quando rifai le live presto 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 faremo tante cose nel frattempo vi ringrazio io vi ricordo e vi chiedo se vi va se vi fa piacere se vi è piaciuto questo video se vi sono piaciuti gli altri video di iscrivervi qua cliccando su iscriviti a questo canale youtube accendete le notifiche così da avere subito la notifica appena vengono pubblicati i nuovi video non faccio spam prometto nel senso massimo un video al giorno e nemmeno tutti i giorni quindi non vi tartasserò di notifiche se volete fare altre domande su premier audition after effect photoshop poco a dire la verità non ho per adesso molte informazioni da dare ma principalmente audition after effect e premier pro ovviamente potete utilizzare l'email ok via email raccogliamo tutte le domande tutorial chiocciola fabio ambrosi punto it ripeto tutorial chiocciola fabio ambrosi punto it oppure venite su facebook cercate fabio ambrosi c'è la pagina fabio ambrosi lì chiaramente mettete un like e inviatemi un messaggio risponderò che non posso rispondere a problemi privati voi fate la domanda ok poi in uno di questi video vi risponderò oppure sul sito internet fabio ambrosi punto it sul tab contatti c'è il modulo che potete riempire per inviarmi la vostra domanda solo la cortesia non fatemi domande troppo precise o meglio troppo tra virgolette personali nel senso ho fatto questa cosa non mi riesce cercate di fare domande ovviamente su argomenti che possano servire un po' a tutti ok e chiaramente su argomenti possibilmente che abbiamo già trattato e che magari possiamo approfondire grazie mille grazie mille è stato un piacere al prossimo video non tutorial sì forse farò un tutorial tra qualche giorno vedremo comunque al prossimo video grazie ovviamente a tutti per avermi seguito fin qui buona serata buon proseguimento e buona vita ciao grazie mille